In questo video confrontiamo la versione della MIUI 14, in questo caso 14.0.2 presente nel Redmi Note 13 Pro Plus, con la versione 1.0.14 dell'HyperOS presente sullo Xiaomi 14. Come sappiamo, anche per il Redmi Note 13 Pro Plus è arrivata la nuova versione dell'interfaccia, cioè la HyperOS. Ma in effetti l'HyperOS come si differenzia rispetto alla MIUI 14? In particolare abbiamo detto che l'HyperOS è stata in un certo modo creata da zero, partendo da un kernel che è stato in parte ripulito ed è stato ridotto di circa 3,7 GB rispetto alla vecchia versione dell'AMUI. In questo modo si sono eliminati anche alcuni bug che si presentavano nella versione precedente. Quali sono però le differenze sostanziali? Innanzitutto partiamo dalle info di sistema, andando in particolare sulle impostazioni per entrambi i prodotti e infosistema, ci rendiamo conto innanzitutto che sono leggermente differenti le impostazioni delle icone. La prima icona per entrambi è infosistema. Andando qui ci compare con la vecchia versione della MIUI, in questo caso 14, quindi il nome del dispositivo in unica schermata, il nome del dispositivo, lo spazio di archiviazione, la versione della MIUI e anche le patch di sicurezza, oltre che il ripristino di fabbrica, il backup e il ripristino. Invece in questo caso compare la versione dell'HyperOS con il nome del dispositivo, lo spazio di archiviazione, la versione del sistema operativo, versione di Android e in basso sempre backup e ripristino e ripristino di fabbrica. Quindi sono riportate alla fine le stesse informazioni, ma sono disposte in maniera differente. Qui in un certo modo sono a quadri più grandi, qui invece sono più moderne. Altra differenza sta nell'interfaccia vera e propria. Le due, diciamo, i due sistemi e le due interfacce si somigliano molto. Infatti una volta accesi i dispositivi, la prima cosa che compare in altro è lo stesso widget del meteo con la barra di cerca di Google e poi ci troviamo con le stesse applicazioni. Quindi la galleria, app mail, dove in pratica è un aggregatore di applicazioni e giochi dello store di Xiaomi, il browser, la musica, poi tutte le app di Google per entrambi. Troviamo il Play Store, My Video, il campo dei temi, poi il Game Center, le impostazioni, sicurezza e il pulitore. E infine troviamo in basso le stesse applicazioni, quindi l'app della fotocamera, Google Chrome, l'app dei messaggi, il dialer telefonico che praticamente sono quelli stock di Google e in questo caso Whatsapp che ho scaricato io a parte. Andando nella seconda schermata troviamo per entrambi il gestore dei file, ShareMe, poi troviamo nel, in questo caso non so se è legato a questo prodotto, quindi al Redmi Note 13 Pro o alla versione della MIUI, troviamo non solo il widget del meteo per entrambi, ma troviamo anche il widget della musica e dei passi che invece non troviamo nello Xiaomi 14. Poi troviamo Xiaomi Home con la versione dell'AperOS che non troviamo invece con la MIUI 14. Abbiamo le stesse applicazioni, assistente Netflix, assistente app, Xiaomi Community, l'app di Booking, le note e opera. Poi in più troviamo tanti giochi scaricati per la MIUI 14. Nelle altre app per entrambi troviamo le stesse applicazioni dove ci si rende conto anche qui di un'ulteriore differenza. Come vediamo alcune icone per alcune applicazioni con la nuova versione dell'AperOS sono leggermente modificate nella grafica rispetto alla MIUI 14. È presente per entrambi il Mi Store che ovviamente io ora ho rimosso nello Xiaomi 14 ma era anche qui presente e se andiamo in strumenti troviamo più o meno le stesse applicazioni che troviamo qui in app di sistema. Anche qui come vediamo la grafica è diversa e più moderna sia per il registratore che per l'orologio che per la calcolatrice, il scan, il download che abbiamo visto già presente, la bussola, poi abbiamo il Mi Mover, il Mi Remote e poi i servizi e feedback che sono presenti per entrambi. Come vediamo anche i tasti di navigazione non sono cambiati. In tutte e due sono presenti i pallini per spostarci lungo la home. Cosa invece cambia tra i due prodotti? Cambiano in particolare il sistema di gestione delle notifiche qui vecchio con la MIUI 14, qui più nuovo, più moderno con l'HyperOS dove in pratica abbiamo una sorta di pallino che va a separare le notifiche che invece non troviamo da quest'altra parte con l'HyperOS. In più per entrambi troviamo alcuni elementi in comune come l'orario e la data, ma con la nuova versione dell'HyperOS non abbiamo le indicazioni e questo non so, avrei preferito la stessa configurazione della MIUI 14 perché qui abbiamo sempre tra i vari toggle, possiamo vedere quindi nella schermata delle notifiche possiamo vedere la percentuale della batteria, se è collegato il wifi o i dati, la sim se è presente, il non disturbare, la velocità di dati, eccetera. Andando invece, abbassando la tendina verso destra, per entrambi invece ci troviamo nel vero e proprio pannello di controllo che è quello che più ha subito la modifica principale. Come vediamo è differente perché ci troviamo da una parte il collegamento con il toggle più grande per quanto riguarda il collegamento tramite il wifi, troviamo poi sempre l'audio la cui icona è differente tra l'HyperOS e la MIUI 14, il valore della luminosità e anche qui la connessione dati. Poi abbiamo il toggle dedicato per la musica che non troviamo invece nella MIUI 14 e poi tutti i toggle separati. In particolare nella versione dell'HyperOS, al momento in cui acquistiamo il prodotto e quindi lo configuriamo per la prima volta non troviamo nemmeno le etichette delle scritte sotto i toggle che invece troviamo tranquillamente nella MIUI. Etichette delle scritte per l'HyperOS che va configurata a parte. Per entrambi poi è presente il nome dell'operatore se eventualmente è presente la sim all'interno e in pratica la percentuale della batteria, se c'è collegamento con il wifi, la velocità dei dati e i vari toggle che presenti come in questo caso la modalità non disturbare. L'altra differenza è con la MIUI 14, in pratica appena acceso e configurate tutti i toggle possibili, questi possono essere visti tramite uno scorrimento orizzontale, mentre nel caso dell'HyperOS vengono visualizzati tramite scorrimento verticale. Una volta che poi terminiamo lo stesso, come vediamo, ritorniamo direttamente indietro. Mentre nel caso della MIUI 14 non possiamo andare più avanti, possiamo ritornare indietro, ma praticamente l'unico modo per ritornare indietro è quello di scorrere verso sinistra, dove ci si indirizza alla tendina delle notifiche e poi in particolare, come avviene anche per l'HyperOS, e poi possiamo tornare indietro. Mentre abbassando la tendina del pannello di controllo per la MIUI 14, andando verso destra invece, c'è una sorta di blocco che non troviamo, come vediamo, nell'HyperOS. Per quanto riguarda i toggle, troviamo più o meno gli stessi toggle, quindi Bluetooth, modalità aereo, la luminosità automatica per entrambi, la torcia, gli screenshot, come vediamo anche la grafica, è leggermente cambiata, e qui troviamo gli altri toggle rapidi, quindi a livello dei toggle rapidi praticamente troviamo gli stessi con l'unica differenza che è, nel caso della MIUI 14, come vediamo, in alto è presente il tasto per la modifica, che ci consente quindi di aggiungere eventuali comandi disponibili in basso e di aggiungerli qui, e qui di rimuoverli o di posizionarli come noi vogliamo. Mentre nel caso dell'HyperOS, invece, dobbiamo andare direttamente tutto in basso per cliccare sul tasto modifica e poi effettuare la stessa cosa. Nel caso in cui andiamo a rimuovere i toggle che compaiono qui in basso, e qui in basso possiamo aggiungere gli eventuali toggle che non abbiamo impostato. Come vediamo poi, per dare l'ok, con l'HyperOS c'è la spunta, sulla MIUI 14 c'è fatto. Altra differenza è che con la MIUI 14 il tasto impostazione è posizionato in alto, mentre con l'HyperOS, invece, c'è il toggle proprio dedicato alle impostazioni, che invece troviamo in questa posizione. Effettuando un pinch to zoom su entrambi i dispositivi, ci ritroviamo nella stessa schermata, con la possibilità di andare sugli sfondi, sui widget e quindi il campo dell'impostazione della home. Nel campo dell'impostazione della home abbiamo anche le stesse voci, quindi effetti di transizione, schermata predefinita, non mostrare il testo, dove la differenza sta nel fatto che in particolare con la vecchia MIUI 14 non compare poi la voce disattivata, ovunque, sui widget, quindi c'è qualche impostazione in più con l'HyperOS rispetto alla MIUI 14. Abbiamo quindi anche qui il layout della schermata home, dove abbiamo le due possibilità, con la MIUI 14 così, mentre qui abbiamo una grafica innovativa e migliore, però le voci sono gli stessi, anche andando poi su altro, ci troviamo praticamente con la stessa, con le stesse voci, con la differenza che qui in pratica ci dice che nella schermata menu 1, quindi che è la schermata più a sinistra, possiamo andare su Google Discover, ma nel caso della MIUI 14 ci dà la possibilità di gestire o Google Discover o in particolare, come vediamo, qui possiamo con l'HyperOS possiamo attivare o meno Google Discover, mentre invece se con la MIUI 14 possiamo decidere se avere sulla schermata di sinistra niente, e quindi disattivarlo anche in questo caso, Google Discover, in questo caso attivarlo anche qui, oppure l'assistente app, che invece con l'HyperOS non ci dà questa possibilità. In più abbiamo poi lo scorri verso l'alto per entrambi, la velocità di animazione, come vediamo, è uguale per entrambi, la navigazione di sistema, che è invertito ma è presente qui, riempi spazi, il blocco del layout, dimensioni dell'icona che è presente in questa schermata, mentre la troviamo in un'altra schermata per l'HyperOS, non mostrare il testo per entrambi, il layout, animazioni, icone globali, sulla MIUI 14 che non troviamo invece sull'HyperOS, poi andando qui in basso abbiamo disponibili elementi recenti in verticale e in orizzontale, che è presente anche con HyperOS, con la possibilità anche di sfocare le anteprime delle app, di visualizzare la RAM disponibile, che invece è posizionata qui, e la funzione di sfoca è impostata qui. E poi, cosa in particolare è differente, c'è la possibilità di attivare o disattivare il mostro suggerimenti sulla MIUI 14 che invece non troviamo sull'HyperOS, andando a migliorare quello che dava molto fastidio, a mio avviso con le vecchie versioni della MIUI. Andando nel campo di widget ci troviamo con gli stessi widget, quelli di Android, quindi le funzioni rapide, l'orologio, la calcolatrice, le note, il meteo, la musica, il Chrome, i suggerimenti, la UI del sistema, Drive e i temi, ovviamente per entrambi, le foto, il benessere digitale, YouTube Music, il calendario, i contatti, Gmail, Google, l'assistente app per entrambi, il browser, la galleria, MyVideo, e quindi ci troviamo in pratica con gli stessi widget su questa schermata che vengono visualizzati allo stesso modo. Per quanto riguarda gli aggiornamenti app di sistema, anche qui le schermate sono praticamente identiche, andando su Wi-Fi per entrambi abbiamo la stessa possibilità con le stesse funzioni di accelerazione della rete per entrambi, poi c'è una funzione in più, ovviamente lo Xiaomi 14 parliamo di un top di gamma contro un prodotto di fascia media, tutte le reti disponibili in basso, e poi abbiamo nelle impostazioni aggiuntive le stesse funzioni. Qui in basso è riportato anche il Wi-Fi Direct per la MIUI 14, che invece non troviamo in particolare nell'HyperOS. In alto abbiamo sempre la possibilità di effettuare un codice a scanner per individuare automaticamente la password. cliccando poi sulla rete su cui siamo connessi, come vediamo abbiamo le stesse voci che riguardano lo stato, la tecnologia, la velocità di connessione, l'intensità del segnale, l'indirizzo IP, la sicurezza, la maschera, i sottoletti, il router, poi il proxy, impostazioni in IP, privacy, modifica rete, eliminarete, quindi anche in questo caso abbiamo le stesse voci. Andando in Bluetooth abbiamo anche qui le stesse voci, andando poi con la MIUI 14 c'è connessione e condivisione, che invece troviamo qui con maggiori opzioni di connettività con la HyperOS, dove abbiamo in particolare le funzioni di proiezione, di stampa, il my share, la modalità aereo e quindi abbiamo anche qui più o meno le stesse voci, anche se sono disposte come vediamo in maniera differente, però quelle sono le voci. Abbiamo l'interconnettività con l'HyperOS che manca, in particolare nella MIUI 14, quindi la possibilità di scoprire nelle vicinanze se siamo collegati allo stesso account Xiaomi con altri dispositivi, sempre dallo stesso marchio. Poi andando in... abbiamo anche la voce dell'hotspot personale dell'hotspot personale che viene separato rispetto a quello che compariva con la MIUI 14 in connessione e condivisione, aprendo tutte e due praticamente poi ci troviamo con le stesse voci per entrambi, anche se sono separati nel menu. Inoltre abbiamo, come vediamo, l'altra differenza nel campo delle impostazioni è che con la MIUI 14 ci troviamo in un unico cambio, l'Always On Display, la schermata di blocco, mentre troviamo solamente schermata di blocco con l'HyperOS. Andando a cliccare su entrambi, come vediamo, sulla MIUI 14 ci dà la possibilità di attivare qui l'Always On Display e poi abbiamo gli effetti di notifica, mentre nella schermata di blocco dell'HyperOS ci dice la sospensione dopo quanto deve avvenire, che è qui posizionato in basso, poi ci dà la possibilità di solleva per attivare, tocca due volte per attivare o spegnere su entrambi, c'è il carello di sfondi su entrambi, poi abbiamo avvia fotocamera modalità tasca per entrambi, mentre invece nel MIUI 14 c'è anche nella schermata di blocco la possibilità di vedere il formato dell'orologio nella schermata di blocco e in particolare visualizza l'animazione di ricarica dopo che il dispositivo è stato bloccato, cosa che invece non troviamo in particolare con l'HyperOS. Nel carrello sfondi invece abbiamo, come vediamo, le stesse informazioni. Con l'HyperOS poi abbiamo la voce notifiche barra di stato, che invece diventa notifiche centro di controllo della MIUI 14. Cliccando su entrambi abbiamo le stesse possibilità per quanto riguarda le notifiche nella schermata di blocco, anche qui il formato è praticamente identico, poi abbiamo le notifiche a comparsa dove abbiamo anche qui le stesse voci e in più abbiamo i beige con le stesse funzioni. In notifiche app abbiamo le stesse voci, in stile delle notifiche viene cambiato in area delle notifiche con la MIUI 14, però è classificata sempre allo stesso modo, Android o classico che sarebbe quello della MIUI, quindi cambiano le voce ma sono le stesse cose. In più, come vediamo, c'è effetto delle notifiche, quando quindi arriva una notifica si illumina lo schermo per la MIUI 14, che troviamo qui, poi abbiamo nel caso dell'HyperOS abbiamo il numero di icone che possono essere visualizzate in alto, mostra la velocità di connessione, il nome dell'operatore, l'indicazione della percentuale di batteria, nasconde il notch e il notch delle singole app, elementi sulla schermata di blocco quando scorri verso il basso, non mostrare le etichette delle icone, che sarebbe quello che poi in pratica è nel centro di controllo, come vediamo bisogna disattivare questo per avere le scritte, poi i comandi dei dispositivi smart, che in questo caso compare, oppure possiamo disattivarlo in maniera tale da avere un centro di controllo più punito. Mentre invece con la MIUI 14 c'è la possibilità di attivare, o la nuova versione che ci consente a sinistra di abbassare la tendina delle notifiche, a destra di avere il pannello di controllo, o meglio il centro di controllo, oppure attivare la vecchia versione. Con la vecchia versione o a sinistra o al centro o a destra, quando abbassiamo abbiamo tutte le notifiche in basso e poi abbiamo, come vediamo, tutti i toggle rapidi. Quindi non abbiamo il pannello, il centro di controllo, ma abbiamo la vecchia versione con la tendina delle notifiche, funzione che non è stata più implementata con l'HyperOS. Con la MIUI 14 c'è la possibilità di attivare anche qui la schermata degli smart home nel centro di controllo, di scorrere verso il basso per mostrare l'area delle notifiche, il centro di controllo e lo smart home quando il dispositivo è bloccato e che troviamo anche nell'HyperOS, di visualizzare poi a parte la barra di stato dove viene data la possibilità di mostrare l'icone di notifica o di non mostrarle, la velocità di connessione, l'operatore quando il dispositivo è bloccato, l'indicatore della percentuale della batteria che, come vediamo, è uguale allo stesso modo e sono presenti le stesse voci qua i nascondi il notch oppure il notch delle singole app che troviamo in tutte e due i dispositivi. In più, mentre nel caso della MIUI 14 non c'è nessun campo di ricerca che ci aiuta, con l'HyperOS in basso troviamo la possibilità di avere degli aiuti che ci consentono di arrivare a gestire altre informazioni più facilmente. Andando poi sulla schermata home per entrambi, abbiamo praticamente, come abbiamo visto prima, le stesse voci, quindi la schermata home, abbiamo sempre la modalità con cassetto classico o la modalità light, con l'unica differenza che con la MIUI 14 ci dava la possibilità di gestire anche l'assistente app, cosa che non avviene con l'HyperOS. poi praticamente abbiamo le stesse voci blocco reale, le dimensioni dell'icona, quindi come vediamo abbiamo in particolare le stesse voci, tranne che il mostrasuggerimenti non è presente in HyperOS. nel caso del campo dello sfondo vediamo che la gestione degli sfondi è differente perché nel caso della vecchia MIUI 14 ci dà la possibilità di analizzare gli sfondi online e tutti gli sfondi che sono presenti di sistema nel prodotto oppure di collegarsi direttamente in pratica agli sfondi che ci vengono forniti mentre nel caso dell'HyperOS abbiamo sempre questa possibilità di vedere tutti gli sfondi di sistema di trovare altro, quindi gli sfondi online di gestire i super sfondi e in più abbiamo anche la possibilità di avere queste schermate che non troviamo nella personalizzazione in questo campo degli sfondi perché praticamente con l'HyperOS abbiamo sfondo e personalizzazione e con la MIUI 14 abbiamo solamente lo sfondo quindi nello sfondo e personalizzazione abbiamo tutto ciò che riguarda la personalizzazione che riguarda lo stile del blocco a schermo che come vediamo è variato rispetto a quello che abbiamo con la MIUI 14 non abbiamo quindi questa possibilità poi c'è il campo delle lune su display che abbiamo trovato a parte con la MIUI 14 le icone che troviamo a parte con la MIUI 14 i caratteri che troviamo a parte con la MIUI 14 e gli effetti delle notifiche che troviamo a parte e gli effetti impronta che troviamo a parte quindi praticamente un'unica schermata di personalizzazione che invece non avevamo con la MIUI 14 andando nel campo dei temi invece ci troviamo collegati direttamente ai temi per entrambi per quanto riguarda la MIUI 14 abbiamo la voce password e sicurezza che diventa impronte digitali, dati del viso e blocco schermo per l'hyperOS qui poi la schermata che si apre è praticamente identica quindi col blocco schermo lo sblocco tramite impronte, riconoscimento facciale e lo sblocco con dispositivo abbiamo la stessa voce password di protezione poi il campo privacy che praticamente ci mostra le stesse informazioni così come autorizzazioni e revoche e poi allarmi pubblici che con la MIUI 14 era allerte wireless di emergenza ma vediamo che praticamente sono identiche le funzionalità che vengono offerte poi in sicurezza e emergenza anche qui abbiamo praticamente le stesse voci in più nel caso di Android 14 più che altro abbiamo la sezione sicurezza e privacy che invece non troviamo con la MIUI 14 perché la MIUI 14 in questo caso per redmi note è collegata direttamente alla versione di Android 13 e qui abbiamo quindi protezione privacy che differenzia da sicurezza e privacy quindi abbiamo delle etichette differenti anche a livello grafico però questo è legato più che altro alla versione di Android che è differente poi abbiamo per entrambi la gestione delle app dove compara allo stesso modo delle impostazioni delle app di sistema gestione app gestione dei collegamenti le app di sistema installate le app clonate permesse il blocco app quindi abbiamo le stesse voci se andiamo in batteria anche qui praticamente le voci sono identiche quindi abbiamo il tempo rimanente se clicchiamo non succede niente in modalità attuale abbiamo le stesse voci così come in protezione della batteria anche se poi abbiamo una cosa in più per lo Xiaomi 14 mentre qui abbiamo la protezione della carica notturna per la MIUI 14 poi abbiamo il controllo della batteria per entrambi abbiamo le funzionalità aggiuntive per entrambi come aumenta la velocità di ricarica per entrambi accelera anche la ricarica e aumenta anche la velocità di carica e poi abbiamo il programma di accensione e spegnimento per entrambi in più nella MIUI 14 anche il risparmio energetico 5G per alcuni scenari che invece non troviamo in questa schermata per l'hyperOS e poi praticamente abbiamo la stessa possibilità di grafico per entrambi i prodotti poi in benessere digitale abbiamo la stessa schermata per entrambi come vediamo non abbiamo differenze tra i due prodotti nemmeno qui così come in Xiaomi account, in Google e sincronizzazione poi abbiamo account e sincronizzazione che non troviamo invece con l'hyperOS in impostazioni aggiuntive per entrambi abbiamo la possibilità di cambiare date e ora, lingua, la regione, l'accessibilità le funzioni gestuali che sono praticamente le stesse così come ignora, tocco, accidentare sui bordi ovviamente questo è legato al fatto che abbiamo i bordi curvi sul Redmi Note 13 Pro l'assistente tocco, la modalità denominato, registra schermo e poi abbiamo sempre l'assistente alla fotocamera frontale finestra comparso, estensione di memoria secondo spazio e frequenza cardiaca per entrambi con la modalità aziendale e l'OTG per entrambi quindi anche le impostazioni aggiuntive sono praticamente identiche anche quando facciamo un pinch to zoom andiamo a selezionare un'app una volta che viene selezionata in basso ci compaiono tutte le pagine della home dove indirizzare la stessa un'altra differenza è nell'apertura delle applicazioni recenti che nel caso di A per OS ci dà la possibilità come vediamo di avere l'apertura delle schermate in disposizione verticale o orizzontale di vedere la quantità di RAM disponibile che comunque era anche qui presente mentre nel caso dei miei 14 abbiamo la possibilità di vedere le finestre a comparse che voce che non viene data qua in più se attiviamo il mostra suggerimenti sulla MIUI 14 abbiamo la possibilità di accedere direttamente al pulitore alla scansione di sicurezza trova le app e i giochi che invece non ci viene presentato nell'hyper OS tenendo cliccato poi su di un'app come vediamo si apre allo stesso modo e sempre nel campo delle applicazioni recenti tenendo premuto da una parte tenendo premuto dall'altra parte come vediamo compaiono sempre le stesse possibilità anche se è cambiata l'animazione e la grafica con l'impostazione centrale della pagina sull'apero OS invece è spostata su di un lato per quanto riguarda invece la vecchia MIUI 14 se apriamo poi assistente app per le entrambe le pagine più o meno ci troviamo con le stesse impostazioni cioè quindi la barra di ricerca in alto la possibilità di aggiungere i widget qui in alto e anche in particolare qui cliccandoci i trattati nella gestione dei servizi e le informazioni sull'assistente app qui ci vengono proposte le app poi qui promozioni i video popolari il meteo le notizie ecco vediamo abbiamo per entrambi le stesse più o meno informazioni andando in basso sui widget consigliati ci dà la possibilità di aggiungere anche qui di aggiungere gli stessi widget che riguardano i video popolari i temi cambia solamente in particolare come viene vista graficamente questa parte rispetto a questa qui su ma come vediamo i widget che possono essere installati sono praticamente gli stessi sia da un lato che dall'altro andando su tutti come vediamo compaiono anche i stessi widget interattivi che possono essere applicati sugli stessi con nessuna differenza praticamente tra l'uno e l'altro quindi anche l'app l'assistente app è praticamente identico ma con la possibilità di attivarlo direttamente sulla schermata tutta a sinistra per il Redmi cioè meglio per la MIUI 14 cosa che non è possibile con l'HyperOS perché l'HyperOS ci dà la possibilità solamente di attivare o meno il Google Discovery nella pagina di sinistra queste sono le differenze sostanziali che ho trovato tra le due versioni a livello proprio grafico poi altre differenze si possono avere in alcune applicazioni che andiamo ad aprire come nel caso della galleria dove abbiamo le stesse schermate però con la nuova HyperOS tenendo premuto su di un soggetto praticamente l'intelligenza artificiale ci dà la possibilità di copiare questa immagine di andarla a inserire dove vogliamo noi oppure di cambiare addirittura lo sfondo e di metterne altri cosa che non succede invece con come vediamo cambia come vediamo lo sfondo questa funzione invece non è presente con la vecchia MIUI 14 perché se teniamo premuto su di un soggetto come vediamo non succede praticamente nulla inoltre abbiamo poi le stesse funzionalità come il riconoscimento del testo regola filigrana protettiva imposta come sfondo Google Lens dettagli e in particolare la possibilità anche di copiare come vediamo qui con l'HyperOS che invece manca in particolare con su la MIUI 14 un'altra differenza fra le due versioni è che con l'HyperOS come vediamo è stato aggiunto un nuovo tipo di carattere mentre con la MIUI 14 avevamo un unico carattere che era quello roboto altra differenza sta nell'app del Meteo che è stata rivista e aggiornata con la nuova versione di HyperOS come vediamo in pratica assume anche un'animazione dinamica cosa che manca con la vecchia versione della MIUI 14 in entrambi ci dà la possibilità di aggiungere la località tramite il tasto più andando a cliccare poi sulle impostazioni abbiamo per entrambi la possibilità di gestire l'unità di temperatura di scegliere l'unità di velocità del vento della pressione atmosferica di aggiornare automaticamente di notte il feedback e le informazioni sulla privacy in particolare ci vengono date per entrambi gli elementi di allarme ove eventualmente previsti poi vediamo che la grafica proprio dell'app Meteo è modificata molto più bella interessante quella presente nella nuova versione dell'HyperOS dove ci dà la possibilità di vedere le previsioni per 5 giorni estesa a 5 giorni per entrambi in questo caso la grafica è rimasta praticamente la medesima mentre in altri dettagli come vediamo si accede per entrambi a Google Chrome nella previsione delle 24 ore sono abbastanza simili ma come vediamo variano anche altre voci perché in pratica troviamo una grafica differente che riguarda il vento troviamo la temperatura percepita sull'HyperOS che manca nella vecchia app Meteo il valore dell'umidità che è posizionato in questo modo così come la temperatura percepita che con la vecchia versione è posizionata in questo altro modo quindi abbiamo molte più informazioni molto curate graficamente come vediamo anche per il Redmi Note 13 Pro è in arrivo la nuova versione dell'HyperOS che in particolare porta all'aggiornamento delle patch di sicurezza a febbraio ma non viene menzionato se viene aggiunto o meno Android 14 in definitiva possiamo dire che la nuova versione dell'HyperOS in effetti è priva di bug che invece si presentavano molto spesso con la MIUI 14 non ho mai trovato pubblicità cosa che invece succedeva spesso con le vecchie versioni della MIUI anche su telefoni diciamo più costose non solamente sui dispositivi di fascia media e poi la trovo più fluida animazioni molto più rapide e anche esteticamente è molto più piacevole alla vista con le vecchie versioni